La stagione del Catania è ormai pronta ad iniziare a tutti gli effetti. E da domani a Torre del Grifo si comincerà con il ritiro che vivrà subito la prima seduta a porta aperta per consentire alla squadra guidata da Pino Rigoli di ricevere l'abbraccio dei tifosi rossazzurri. Tutto dopo la presentazione che avrà luogo in mattinata al Salone Bellini del Comune di Catania e le visite mediche di rito che si completeranno oggi e alle quali saranno sottoposti anche i nuovi acquisti in Modì e Nava arrivati per completare il pacchetto arretrato. Per l'attacco invece è forte la suggestione che porta sulla strada del ritorno di Michele Paolucci ha costato prepotentemente al Catania nelle ultime 24 ore e soprattutto dopo che Pietro Lomonaco ieri ha dato le indicazioni sulle prossime mosse di mercato. A dire il vero però sembra che il Catania stia seguendo un altro nome importante nel ruolo della punta centrale e tutto si potrebbe concretizzare a breve. Nel frattempo si pensa alla possibile cessione di Rinaudo al Chievo ma anche a come completare il reparto di centrocampo dopo la trattativa sfumata sulla linea del traguardo per Sibert che alla fine andrà alla Juve Stabia. Da lunedì infine partirà la campagna abbonamenti sulla quale la società rossazzurra ripone sempre grandi speranze e malgrado ci sia ancora diffidenza da parte dello zoccolo duro dei gruppi organizzati che hanno ribadito di attendere e di vedere i risultati in arrivo dal campo prima di dare fiducia al nuovo corso dirigenziale.